It's my life It's my life It's my life Hola e bienvenida al Club delle Imprenditrici della Nuova Era Un luogo riservato dove non ti sentirai più sola Ti accompagnerò ogni settimana con interviste e riflessioni per trasformare le credenze e convinzioni che limitano il tuo potenziale e la crescita del tuo progetto Addio autosabotatori Non c'è proprio una strategia esterna che vi possa fare ottenere quello che potete ottenere attraverso una strategia vostra interna Proprio l'altro c'è, ci sono due tipi di prezzi prezzi interno e prezzi esterni, l'abbiamo già parlato e adesso c'è anche un profitto, un profitto interno emotivo e un profitto esterno monetario Quindi non si può valutare su un progetto solo ed esclusivamente se ha un profitto economico Bisogna valutare anche che profitto emotivo ha All'inizio io non monetizzavo quanto avrei voluto monetizzare A quel punto però io a livello emotivo mi faceva molto bene Uno perché facevo molta pratica e due perché comunque mi sentivo in attività e creavo relazioni con le mie clienti Non possiamo pensare che l'investimento che facciamo su di noi non sia redditizio Che cosa succede se invece di seguire le strategie altrui crea una strategia mia E se non funziona ma se funziona il 90 per cento delle volte la paura non è tanto E non riuscire a fare un qualcosa ma la paura è nel riuscire a fare qualcosa Viviamo in un mondo Abbiamo vissuto in un mondo sulla frequenza della colpa Del sacrificio, del dolore Che il lavoro è sacrificio È abnegazione Quindi quando si fa un lavoro che piace Che diventa semplice farlo Che godiamo nel farlo È chiaro che c'è una colpa Non dovrei Dovrebbe essere più difficile Quindi si vinco Se ho successo anche in modo facile Se monetizzo in modo semplice, facile Che cosa succede? Piena meno la identità o quello che ho creduto in tutti questi anni Quindi una parte di me andrà a dire Oh guarda che sciocca che sei stata O me punirei perché? Perché in tutti questi anni hai patito per niente Quindi per evitare quella sofferenza Del credere che quello che abbiamo vissuto tutti questi anni Non sia stato vero Quando abbiamo passato anche la nostra identità In questi anni È chiaro che allora è meglio continuare a dire Continuare a far sì che tutto sia difficile Per continuare a dire Vedi la vita è così difficile Tutto è così al di fuori di me Quindi non ho la responsabilità Non posso farci niente riguardo a questo È molto più semplice Ok? Semplice, non facile Attenzione Tutto è un segnale Se non sta funzionando un servizio Non sta funzionando un progetto come voglio Se il mio corpo non sta funzionando come voglio Se quella relazione non sta funzionando come voglio C'è un qualcosa che sta risuonando con me Lo sto manifestando io Per cosa lo sto manifestando? Abbiamo tanti di quelli ostacoli Che possiamo modificare Modificando solo ed esclusivamente Quello che sono le nostre convinzioni Non lo vado a smettere mai di dire Che poi serve una strategia ovviamente Di marketing, di vendita Che sia utile Sì Ma è la ciliegina sempre sulla torta Ma non è il timone che comanda la nave Il timone siete voi e le vostre credenze Il 7% del successo del vostro progetto È dentro di voi Non esiste fuori Lo potete solamente lavorare dentro E poi c'è un concetto che voglio Nel questo ultimo momento vi voglio lasciare Attenzione Non confondete il successo O il falimento di un servizio O di un progetto O di un'impresa vostra Con il vostro successo O il vostro falimento Tendiamo a dire E a utilizzare parole come Hai quelle imprenditrici ed è successo Ah guardate Quello è un imprenditore di successo Quella è una donna di successo O è una donna che ha successo Non è proprio così Non è la donna che ha successo È la idea, il progetto, il servizio L'impressa che ha creato Quella donna che ha successo La stessa persona Quella stessa imprenditrice Può avere servizi, prodotti o aziende Che non hanno successo È la stessa persona Quindi non è lei che ha successo O non ha successo Ma i suoi servizi I suoi prodotti E le suoi asciende I suoi servizi Grazie per la visione!